Grazie caro Macron, cara signora Merkel, grazie per averci abbandonato nel momento del bisogno, grazie per averci negato di poter acquistare da voi semplici mascherine ed altri presidi medici atti a combattere la diffusione del virus. Le avremmo pagate, sapete? Siamo italiani, quelli sporchi, chiassosi, indisciplinati, buffi, folcloristici, poveri e talvolta mafiosi, ma siamo anche quelli che vi hanno costruito le strade, le scuole, vi hanno insegnato l'alfabeto che usate, spiegato le leggi, il diritto, l'organizzazione dello Stato e la creazione di quello di diritto. Siamo noi, gli italiani, gli autori delle opere che riempiono i vostri musei, delle opere che riempiono i vostri musei, dei testi che studiate, delle invenzioni che usate, quelli che con enorme sacrificio si trovano a dover conservare e gestire ben oltre il 70% del patrimonio culturale ed artistico mondiale, chiedendovi una cifra irrisoria per il biglietto ai musei. Talvolta neppure quella. Siamo noi, gli italiani, quelli che vi hanno offerto l'arte e la cultura su cui si basa la nostra e la vostra civiltà, la massima espressione di bellezza, armonia, equilibrio che l'essere umano abbia mai raggiunto. Siamo noi, gli italiani, quelli che vi hanno offerto la civiltà che poi voi avete abbattuto trascinando il mondo nel medioevo e poi una volta risollevati e rinati abbiamo nuovamente offerto al mondo la civiltà, l'arte, la geografia, l'economia, l'istruzione. Siamo noi, gli italiani, quelli che hanno creato via l'economia, l'istruzione. Siamo noi, gli italiani, quelli che hanno creato il parmigiano, la mozzarella, il prosciutto, la mortadella, il salame, i ravioli, i tortellini, le lasagne, il gelato, la pizza, eccetera, eccetera. Quelli che hanno portato in Francia le vigne e vi hanno insegnato a fare il vino, la grappa, i distillati. Quelli che ogni anno combattono contro i vostri tentativi di scimmiottare i nostri prodotti e copiarne il nome, ma anche lo stile e la moda. Anche lei, signor Trump e lei, signor Johnson, grazie per averci prima di tutto isolati invece che aiutati. Le ricordo, signor Trump, che se non fosse per un italiano adesso sarebbe nella terra dei suoi avi a fare la fame e non in America, a fare il riccone e non avrebbe potuto mangiare neppure le patate, perché non le avreste mai avute senza un temerario italiano che ha navigato verso l'ignoto. A lei, signor Johnson, ricordo che la fortuna della sua nazione si basa su una bandiera che vi abbiamo concesso dissare sulle vostre navi per non essere attaccati dai pirati. La croce di San Giorgio, concessa dalla Repubblica di Genova, senza quella sareste stati spazzati via dai saraceni. Vi abbiamo insegnato la navigazione e l'avete imparata bene. A tutti voi, quando telefonate, pensate a Meucci. Quando guardate la tv o ascoltate la radio, pensate a Marconi. Quando usate l'elettricità, come se non ci fosse un domani, pensate che non avreste potuto farlo se non ci fosse stato fermi. Noi italiani, noi italiani abbiamo inventato le banche, le università, la prospettiva, l'architettura, l'ingegneria, l'astrofisica, il calendario, la musica. Erano italiani Giotto, Colombo, Marco Polo, Leonardo, Michelangelo, Bernini, Tiziano, Raffaello, Brunelleschi, Galileo, Cesare, Ottaviano, Vespasiano, Aurelio, Dante e potrei continuare per ore. Carissimi miei, nel sentire il nome Italia dovreste scattare in piedi, abbassare la testa ed essere coscienti che l'origine della società occidentale è qui. Se vi chiediamo aiuto dovreste correre, perché se trascinate di nuovo il mondo nel medioevo non so se ce la faremo nuovamente a fare nascere la civiltà. Se invece non vi interessa, allora compiacetevi di quello che avete. Restate ad ammirare qualche tonnellata di ferro imbullonato e quando visitate i vostri musei, per cortesia, saltate le opere degli italiani. Finirete la vostra visita molto velocemente. Potete così andare a visitare subito una bella fabbrica di auto, diesel magari, di quelle che non inquinano solo ai controlli. Andate a visitare quelli che per voi sono castelli e per noi solo banali ville di cui siamo pieni. Oppure andate nella capitale dell'azzardo, quello che scignotta Venezia, Firenze, Roma. Andate. Andate pure. Evitate di venire a visitare il paese più bello del mondo, visto che lo avete pugnalato alle spalle. Noi accoglieremo a braccia aperte solo chi nel momento del bisogno ci ha aiutato. Apriremo le nostre città uniche al mondo a loro. Apriremo le nostre città uniche al mondo a loro. Potranno visitare Venezia, Roma, Firenze, Genova, Napoli, Bologna, Pisa, Lucca, Sisi, Siena, Torino, Palermo, Agrigento, Milano, Cremona, Mantua, Ferrara, la Toscana, il Monferrato, le Dolomiti, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna. Avete distrutto la povera Grecia con la vostra finanza. Ci avete provato anche con l'Italia, ma per ora non ci siete riusciti. Ora forse avete scorto l'occasione per assestare il colpo finale, ma nella cecità del vostro egoismo non avete calcolato che il virus non ha frontiere. Colpirà tutti, anche voi. Se ci aveste aiutato ieri nel tentativo di arginare l'epidemia, invece di offenderci e di demigrarci, oggi non dovreste forse piangere i vostri morti. Anche voi. Se ci aveste aiutato ieri nel tentativo di arginare l'epidemia, invece di offenderci e di denigrarci, oggi non dovreste forse piangere i vostri morti. Il vostro egoismo ha dato la misura di quanto poco siate. Grazie. Grazie.